ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove oggi andrò a provare andremo a provare 9 9 più ultimo nuovi quindi poi il prossimo blocco arriverà in futuro di nuovo 9 più quindi concludendo con 9 più questo potrebbe essere più buono visto che mi piace tanto il pistacchio non è più più piena pistacchio con pistacchi interi anche adesso cammin quadratura andiamo a dare questo pacchettino e forno a provare per dare la recensione eccomi qua con 9 9 più il piano pistacchi con pistacchi interi confezione che questa volta si presenta verde normale con un verde diciamo più chiaro nella parte qua sopra come al caso del cioccolato con l'interno la crema di pistacchio e questo deve essere i pistacchi interi quando stampate anche il disegno dei pistacchi e basso non c'è altro davanti sul retro abbiamo come sempre le solite cose abbiamo la scadenza febbraio 2025 consumazione a sto avendo sempre a metà novembre pacchetto da 35 grammi poi abbiamo tutti i valori tradizionali questa volta scritti di nuovo qua davanti poi abbiamo la scadenza del pezzo qua sotto sito internet raccolta differenziata e area di produzione di questo prodotto con il cioccolato 35 grammi poi poi in mezzo alla carta pastica sicuramente abbiamo gli ingredienti logicamente come sempre per quel che potrebbe purtroppo è comprensibile occhio adesso lo vado ad aprire vediamo un po questo subito subito impatto si sente l'odore di pistacchio rispetto agli altri questo di qua mi sa che sia un po deformato mi sa che sciogliendo solamente rispetto agli altri è più sciolto come si sta un po deformando c'è un po deformato sembra comunque normale vediamo un po l'interno ma diciamo che non è tanto fedele la confezione molto più vuoto se ma questi si sono nei pistacchi interi però la crema non è tanto visibile comunque va bene adesso comunque cambierai inquadratura e lo vado a provare che riaccomi qua andiamo con l'assaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora 900 più ripiena pistacchio con pistacchi interi foto finale per me 8 su 10 conclusioni finali allora e pi sta che si ci sono e si percepisce il gusto di pistacchio, però chiaramente i propri pistacchi inderi non danno una crema di gusto molto intenso. Ho già provato dei prodotti tipo con cioccolato e pistacchio come il pandoro o le colombe di Pasqua, sia cioccolato che colpistacchio insieme e alcune sono veramente ottimi. Qui è palese che il contenuto di pistacchio è veramente irrisorio, si sente sì, ma veramente in modo parziale, quindi già avendo compreso quei gusti di là, per me il gusto di questo prodotto non è omogeneo, quindi più di 8, purtroppo non posso dire, sì è buono, si percepisce i pistacchi veramente poco e i pistacchi si sentono che ci sono comunque all'interno, è fatto sì bene ma non in modo equilibrato purtroppo. Va bene, se questo video è piaciuto mi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!